Domenica ha chiuso il vertice annuale di Davos, questo vertice annuale nella località sciistica in Svizzera dove avevano 2500 delegati, è un vero e proprio circo, ci sono centinaia di CEO, capi di imprese, capi di banche, banchieri centrali, economisti, oltre 40 capi di Stato, sembra un grande circo, e lo è, per non parlare del circo della stampa, di tanti, tanti, non centinaia, ma migliaia di giornalisti che si approvano anche a Davos. A che serve tutto questo? Nel passato, quando fu inventato, oltre 40 anni fa, era storico, era concreto, era importante. Nel 92 Nelson Mandela è venuto la prima volta, subito dopo il suo rilascio della prigione, era qui. Poi c'era nel 94 un accordo storico fra Shimon Peres e Yasser Arafat sulla pace, the good old days. Ma oggi invece Davos è diventato un'altra cosa. È vero che ci sono state due o tre novità quest'anno, per esempio, per la prima volta in dieci anni c'era il presidente dell'Iran, Hassan Rouhani, il nuovo uomo dell'Iran, che è venuto con due messaggi. Siamo aperti per business, quindi vogliamo fare business con il mondo, e dopo decenni di animosità con l'Iran, forse possiamo diventare amici. Questo era propaganda? Era vero? O tutte e due? Poi c'era anche il nuovo primo ministro di Giappone, Shinzo Abe, che è venuto a spiegare Abenomics, cioè la sua politica economica, la sua ricetta per aiutare l'economia del Giappone. Interessante, ma non eclatante. C'era Mario Draghi, che ci ha ricordato che la ripresa in Europa comincia, è una ripresa ancora fragile, debole e con rischi al ribasso. C'era Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che ha usato per la prima volta la parola che comincia con la lettera D, di deflazione, dicendo che questo sì potrebbe essere un rischio, e anche che ci sono rischi per l'economia mondiale, non è tutto liscio. Poi c'erano quelli della tecnologia, che hanno spiegato che la nuova tecnologia, il nuovo software, il nuovo social media potrebbe aiutare il mondo, sicuramente, ma può anche risultare in qualche perdita di lavoro. Questo sapevamo già. Poi c'era Matt Damon e Goldie Hawn, alcuni star di Hollywood, che ogni anno vengono a ricevere un premio convenzionato a posto dagli organizzatori. Nel passato ricordo il frisson fra i banchieri che vedono Sharon Stone o Angelina Jolie a muovere ai cocktail party. E dei parti ci sono tanti a Davos, tanti parti, tanti speech, ma non è più il Davos così importante come una volta, è un po' troppo autoreferenziale, forse un po' troppo scontato. Il vertice economico di Davos è chiuso, ma non è cambiato il mondo.